Oggi l'idea è raccontare e fare insomma una chiacchierata con l'autrice dell'ultimo suo libro, I peccati di Marisa Salas, che esce in anteprima mondiale in Italia anche per il legame fortissimo che la scrittrice ha appunto con l'Italia dove ha venduto milioni di copie anche per questo mi sembra molto interessante raccontare questo libro perché è un libro la cui protagonista sembra insomma essere lontanissima da quella che è l'esperienza dell'autrice anche se poi magari ci racconterà invece di no perché quello che racconta questo romanzo parla di Marisa Salas appunto che è una signora di 60 anni che 30 anni prima ha scritto un libro nel quale ha messo forse l'evento più emotivamente più forte e più importante della sua vita che poi l'ha segnata per i 30 anni successivi, un libro che è stato pubblicato e che però non ha avuto nessun successo. Lei lo ha insomma ha cercato di dimenticarlo in tutti i modi però ovviamente dentro ha covato rancore, dolore, sofferenza e tutto questo riesce poi 30 anni dopo perché appunto non vi sto svelando nulla perché questo succede nelle prime pagine del libro e 30 anni dopo appunto si imbatte in un libro che ha un altro titolo non si chiama come il suo, il suo si chiamava giorni di sole e invece quello che si trova davanti si chiama sogni insondabili e ha un altro autore che è un giovane autore maschio che si chiama Luis Isla e che però ha la prima pagina, la seconda, la terza insomma tutto il libro uguale al suo e sta avendo un successo incredibile e quindi insomma partiamo già da questo. Mi piacerebbe intanto capire se si è mai chiesta, immagino di sì scrivendo questo libro, se un suo libro non avesse avuto successo con il suo nome quando lei lo ha pubblicato avrebbe comunque preferito che avesse successo almeno con un altro autore o slegato da lei è come un figlio che si slega dalla madre e no insomma diventa qualcos'altro. Grazie, grazie Elisabetta, grazie a tutti per essere qui e grazie per questo invito del circolo del lettore, non è la prima volta che sono qua, credo che due o tre di più e sempre sono stata così felice di essere a Torino e in questo circolo. La tua domanda è molto importante perché è quasi tutto il romanzo, quasi tutto il romanzo perché quello che le succede a Marisa Salas che pubblica il suo primo romanzo e non c'è nessuno successo di niente è il terrore di tutti gli scrittori che pubblichiamo, non è il primo, un romanzo, questo terrore di che non aveva nessuno successo ma in questo caso e adesso passo a parlare in spagnolo perché mi capisci mello, Rosa non mi traduce, lo che le succede a Marisa Salas che ha sufrido questo terrore, questa desilusione, di vedere che la sua novela non le interessava a nessuno, a questa desilusione le ha accompagnato un'altra desilusione e è che in in questo momento, in questa casa editrice, con il stesso editor, ha pubblicato anche un'altra scrittura, una jovena che si chiama Carolina e lei si che ha avuto un grandissimo èxito, lei si che ha triunfato e questa sensazione di che a un'altra persona le sta succedendo, lo che a lei abbia piaciuto che le succederebbe, intensifica ancora molto più su decezione, fino a tal punto di che destruirà esos ejemplari che quando pubbliciamo una novela, la editorial nos regala 10 ejemplari a los scrittori, lei li tira a la basura perché non può ne vedo, ose, le ricordano su fracaso. Si sente? Si sente? E adesso? Ok, perfetto, una questione di distanza. Beh sì, effettivamente in questo caso quello che succede a Marisa Salas, vediamo che lei prima soffre, poi subisce, prima soffre il terrore che il romanzo non abbia successo e poi subisce questa situazione, perciò quella di una delusione profonda. Il romanzo non riscuota alcun successo, non suscita per niente l'interesse del pubblico, ma non è questa l'unica delusione che patisce Marisa Salas, infatti ci sono altre delusioni, c'è un'altra delusione che ha reso le cose peggiori in qualche modo, perché proprio nello stesso momento… facciamo come Marilin quando… Adesso? Mi ricordo sempre quando… Si sente? Si sento anch'io. Dunque dicevamo… Ora che fa si funziona. In questo caso nel romanzo ciò che succede a Marisa Salas, dicevamo, è prima soffre il terrore che accomuna tutti gli scrittori che il proprio romanzo, che la propria opera non venga salutato dal successo e poi subisce questa delusione atroce, infatti il suo romanzo non riscuota alcun successo, non suscita nessun interesse nel pubblico, ma questa situazione di per sé negativa è resa ancora peggiore da un'altra circostanza. Infatti nello stesso momento la stessa casa editrice con cui lei pubblica questo romanzo pubblica il romanzo d'esordio di un'altra autrice di nome Carolina e invece il romanzo di Carolina ha un successo straordinario. Quindi la sensazione, la vedere che quello che lei desiderava tanto per sé e che a lei è stato negato, ad altri viene concesso, rende ancora più dura questa delusione, al punto che vuole per così dire farla finita con la sua vita di scrittrice e arriva a gettare nella spazzatura quelle copie di cui normalmente la casa editrice fa omaggio all'autore, perché solo vederle la fa soffrire. Sì, è interessante perché racconta molto quelle che sono le emozioni che attraversano tutti i protagonisti, la protagonista principale ovviamente è Marisa Salas, ma ci sono altri coprotagonisti e sono tutti personaggi che girano intorno, che fanno parte del mondo editoriale e che appunto sono su una continua altalena fra aspettative e invece paura appunto di fallire, di andare a sbattere al punto che poi c'è anche un personaggio che finisce in riabilitazione, no? E noi siamo abituati a vedere i personaggi magari del mondo dello spettacolo, i cantanti, gli attori, come sottoposti a questo tipo di oscillazioni insomma molto forti da sopportare a livello emotivo, mentre lei racconta come questo riguarda anche e molto gli scrittori. È così e si ha voglia di raccontarci quale è stato il suo momento più bello appunto, più bello e più difficile della sua lunga carriera che tra l'altro coincide con quella del suo personaggio letterario, insomma 30 anni più o meno. Si, bueno, è che questo che occorre in Ipecati di Marisa Salas sucede in qualche ambito della vita, si tratta dei sogni, dei desideri e della realtà. Però anche di essere un personaggio pubblico in più che il fatto di poter essere criticato o applaudito che è più frágile ancora. Claro, come tu dici, questi sogni, in contraste con la realtà che non succede a tutti, quando si tratta di ambiti in cui noi, mi ricordo a me, perché sono scrittura, potrebbe essere un actor, come ha detto Elisabetta, potrebbe essere, no sé, un pintor, è di cara, ose, necessitiamo il riconoscimento dei altri, necessitiamo il amore dei altri, di qualche modo, poi ancora si agudizano più. Ose, è che, tendríamos che stare tutti in terapia constantemente, perché a volte è molto difficile soportare la indiferencia. È come se tutti i lectori o tutti i espectatori, quando è un actor o tutti i che vanno a vedere una exposizione, fossero possibili amanti che non rechazano. È un po' exagerato, però è così. Effettivamente, quello che succede nel romanzo, può succedere, in questo caso succede nel mondo della letteratura, della scrittura, ma può succedere, come possiamo immaginare, in qualunque ambito della vita. Parliamo dei sogni, dei desideri e del loro rapporto con la realtà, desideri o sogni che si realizzano meno. Ovviamente, in questo caso, stiamo parlando di un ambito specifico e, come diceva Elisabetta, quando questi sogni si scontrano con la realtà e ci troviamo in un ambito come quello che io ho descritto, perché è quello a cui appartengo e che quindi conosco, perciò parlo dell'ambito letterario, ma varrebbe altrettanto per, non so, l'ambito del cinema, della pittura, comunque un ambito creativo, diciamo. I protagonisti di questi ambiti, di questi settori così peculiari, hanno bisogno del riconoscimento degli altri, hanno bisogno dell'amore degli altri, quindi quando le cose non vanno come speriamo e c'è questa necessità che non si realizza, la delusione è ancora peggiore, l'amarezza è ancora più profonda. È come se avessimo bisogno di essere sempre, per così dire, in terapia, perché non è facile sopportare l'indifferenza. Facendo un paragone un po' azzardato, forse, se mi scusate per le opportune distanze, è come se chiunque abbia una professione di tipo creativo cercasse nel pubblico, che si tratti appunto di cinema, di pittura, di scrittura, un amante. E quando il pubblico non ci ama è come se venissimo un po' respinti. Lo leggo perché vorrei usare le parole giuste del libro. A proposito proprio di lettori e del suo rapporto con i lettori, a un certo punto c'è una pagina in cui descrive, sono tante le pagine in cui parla dei lettori, ma ce n'è una in cui dice che i lettori possono essere una serie di cose, tra cui, dice, sono esseri che vivono su pendisco, scesi delle montagne, sdraiate su una maca. Sdraiate su una maca e non puoi lasciare che si addormentino, altrimenti la maca si ribalta e loro finiscono nel precipizio. Che ovviamente dà l'idea di quella che deve essere la tensione che un libro deve essere in grado di tenere, insomma per tenere aggrappato e a sé appunto i lettori. Cosa che poi lei fa nei suoi libri che sono un po' anche come dei thriller emotivi però, no? Perché c'è sempre poi una chiave di volta, qualcosa che succede, qualcosa che si deve scoprire. E volevo sapere qualcosa in più del suo rapporto con i lettori. Quindi, visto che lei ha venduto diversi milioni di copie e ha un pubblico particolarmente forte soprattutto in Italia, sapere se c'è stato un lettore che le ha dato uno spunto per un romanzo o con il quale ha litigato, esagero anch'io, però, insomma, se c'è stato un rapporto che vada, insomma, oltre quello normale, insomma, quello classico fra lettore e scrittore in tutti questi anni. Sì, però, per questo sono tan importanti questi encuentri, perché nos podemos vedere e, bueno, a mí los lectori me hanno aclarato molte cose di miei noveli, cose che io siquiera abbia visto dentro della novela e mi hanno dato títulos per la siguiente novela. Per esempio, l'altro giorno già mi hanno dato il titolo di mia prossima novela, che mi sembra molto bene, e, bueno, mi discuten soprattutto i finali delle mie noveli. I finali delle mie noveli sono molto discutiti per i lettori. Sicuramente che poi, se qualcuno viene a la firma, sicuramente me lo discutirà anche. Cuento con ello. Interessante. Ma, assolutamente sì, il rapporto con i lettori è fondamentale. Per questo incontri come questo sono così importanti per me. Posso dire che a volte sono i lettori a spiegarmi alcuni dettagli, alcune sfumature dei miei romanzi di cui io non mi ero accorta. A volte sono loro a suggerirmi i titoli per dei romanzi futuri. Per esempio, qualche giorno fa qualcuno mi ha dato un'idea di un titolo per un futuro romanzo. A volte non sono d'accordo sul finale. Quello su cui battibecchiamo un po' con alcuni miei lettori è, sono i finali dei miei romanzi. Magari qualcuno di voi, alla fine, quando facciamo il firmacopie, verrà a dirmi che non è d'accordo sul finale di qualche romanzo. Sappiate che ci conto. Magari questo romanzo non l'avete ancora letto. Però anche se non l'avete già letto, potete dirmi che non siete d'accordo. Ma se lo avete già letto, siete liberi di dirmi che non siete d'accordo sul finale. L'hanno convinta qualche volta, le ha fatto venire qualche dubbio. Forse avrei potuto inserire questo elemento. Sì, io ricordo una novela, mi pare che è Le cose che sei di me, che non sei se avete letto Le cose che sei di me, e dopo di parlare io come un'ora del romanzo per desentragnarlo, mi dice una lettrice, guarda Clara, lo che succede in questo romanzo è che la protagonista è una donna che sta sola e non lo sabe. È una donna sola che non sa di esserlo. e dico, wow, è la verità, è tutta la esenza del romanzo, perché un escritor non è il miglior lector di sua novela. Io non sono la meglio lettrice di mio romanzo, perché lo ho scritto, perché le ho ideato, perché lo ho odiato, perché lo ho amato, perché sono come una madrastra. Una matriña. di mio romanzo. È il lettore, la lettrice, quella che sa che cosa è la essenzia. E a proposito appunto di vita che entra nei romanzi, come nel caso appunto di un lettore che può averle dato l'idea del titolo del prossimo romanzo, leggevo in un'intervista che lei ha parlato di Annie Ernaud, la scrittrice francese che ha appena vinto il Nobel, una scrittrice che le piace molto, che ha sempre apprezzato molto, e ha detto anzi, quando ha vinto il Nobel, anche se in questo caso era un Nobel, perché spesso il Nobel ha fatto, diciamo, scoprire persone, scrittori che erano non così conosciuti. In questo caso invece Annie Erno lo era già da tempo, però lei diceva appunto in questo caso ho dovuto come condividere un amore ovviamente con molte più persone, insomma per quanto riguarda questa scrittrice. Quello che mi ha colpito di Erno è che poi vorrei chiedere a lei, il suo romanzo nuovo che sta uscendo, che è un romanzo breve, lei dice ad esempio di racconta di come ha fatto un'esperienza nella vita proprio perché era ferma sulla scrittura e quasi per darsi, per innescare il processo di scrittura ha deciso di fare questa esperienza nella vita. Succede a volte agli scrittori di sperimentare qualcosa nella vita perché diventi, cioè ma apposta, con l'obiettivo che diventi materiale narrativo. Vivere per scrivere. Esatto. Ovviamente non sempre, in alcuni appunto se succede con alcune esperienze. Sì, questa è una cosa, non so se io ho capito che alcune scrittori viven... Io non credo in questo. Io non so Hemingway. Che? Che Hemingway mi viva avventura per scrivere. No, no, io non posso perché per me sia come una cosa molto ficticia. che sia, per esempio, sono stata di viallo guardando tutto, tomando notas, e dopo non mi ha servito per niente. Perché no? Perché io parto di una sensazione mia, di una emozione mia, che... perché io parto di cose che non ho capito che non ho capito che ho sentito e che a la ora di scrivere empiezano a fluire. diciamo che vivere deliberatamente un'esperienza o vivere delle avventure perché possano poi innescare un processo di scrittura, un processo creativo è qualcosa in cui io credo poco. Mi sembra un processo un po' non fasulo, un po' fittizio, sforzato in qualche modo. A volte ho provato mentre viaggiavo a prendere delle note pensando che poi mi sarebbero state d'aiuto ma così non è stato. La ritengo un po' o inutile come pratica. Io di solito scrivo partendo dalle mie emozioni, partendo dalle mie sensazioni. A volte parto proprio dalle cose che capisco mentre scrivo, dopo che ho scritto, che le ho sentite, che le ho provate. Osea, a me me preguntano moltissime volte che se tomo noti per scrivere le mie novembre. Exacto, era un po' questo. Sì, perché è una cosa che, bueno, che credo che facendo molti scrittori e molto bene, ir tomando noti. Però io non so di che tomar noti. Perché di che voglio tomar noti? Di che sto alegre? Di che sto triste? Sì, effettivamente molte volte mi chiedono se prendo note che poi utilizzo per scrivere in seguito. So che molti scrittori lo fanno e mi sembra un'ottima idea, mi sembra perfetto. nel mio caso diciamo che non saprei di cosa prendere nota, non saprei di che cosa segnarmi su un taccuino che in questo momento provo gioia o al contrario sono triste. perché la memoria venga notata in un quaderno non aveva senso non aveva senso ricordarlo perciò se se anche dei romanzi motiva non è un'indagine non è un'indagine sulla realtà ma non fate molto caso a quello che sto dicendo e sto pensando a voce alta e questo è un libro che parla molto ovviamente parla del mestiere dello scrittore del mondo nel quale si muove delle persone che incontra quanta disciplina serve ho letto che lei diceva che la capacità necessaria per essere uno scrittore è innanzitutto quella di poter stare di essere capaci di stare da soli con se stessi e di stare ore e ore chiusi in casa quando sai che fuori concentrato sul tuo libro quando sai che fuori c'è una vita sociale che va che va avanti serve quanta disciplina serve appunto per fare un lavoro così creativo sì questa è una domanda che mi fai o alcuni scrittori joveni non mi piden un consello e io le dico sabes estar solo perché se non saben estar soli per molti talento che tengono non si può scrivere una novela se necessita molto tempo però io creo in due cose la disciplina è fondamentale perché 400 pagina non si scriven soli necessità stare all'inizio scrivendo però io reivindico la inspirazione la intuizione che è qualcosa che è qualcosa che in ultimi tempi sta come un po' di moda non? possiamo dire è che una novela è lavoro 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 non per me la inspirazione la intuizione è è è è fondamentale ho una idea romantica di lo che è la literatura di è come esa polilla che sta nel ambiente e che tratano di attrapar di una maniera è il tono della novela è la melodia della novela per me è è quello che dà forza a una narrazione più che lo che stai contando sì diciamo che è una domanda che spesso mi rivolgono i giovani scrittori gli aspiranti scrittori e il consiglio che io do sempre loro prima di dire se consiglio loro in primis di diventare scrittori o meno è sapete stare da soli perché se la risposta è no per quanto talento abbiano un romanzo non lo potranno scrivere perché il tempo da passare da soli in solitudine per scrivere un romanzo è tantissimo fondamentalmente io credo in due cose la disciplina è fondamentale importantissima perché 400 pagine non si scrivono da sole certamente ma al contempo rivendico anche l'importanza dell'ispirazione dell'intuizione due elementi due valori che ultimamente sembrano un po' in decadenza da quello che si sente in giro sembra che un romanzo si faccia solamente a colpi di lavoro invece per quanto mi riguarda l'ispirazione e l'intuizione sono di di fondamentale importanza forse è una visione un po' romantica della letteratura della scrittura ma credo che a volte queste queste sensazioni ci permettono di captare una certa atmosfera che alleggia nell'ambiente ci permettono di dare il giusto tono a un romanzo ci permettono di trovare la melodia che quel romanzo deve sapere trasmettere questo dà forza alla narrazione ancora di più della storia in sé ancora di più della trama servono anche come dice un personaggio nel romanzo malizia e un pizzico di cattiveria per scrivere storie che che agancino i lettori che conquistino e lettori o no no lo entendi serve tutto o se vamos a ver una novela non è un manual di buoni di buoni condizioni o se quiero dire che in una novela ti è che che avere tutto questo che a lo mejor non possiamo raccontare in voce alta una novela per esempio come lo di Nabokov ci va a raccontare molto più sulle certi aspetti perversi della naturaleza humana che a lo mejor un ensaggio ose la literatura guarda tiene l'obbligazione di dati perversi della natura molto di più e molto meglio di quanto non possa fare un saggio penso che sia un dovere della scrittura della letteratura farsi eco di ciò che di meglio e di peggio c'è nell'essere umano perversi perversi la literatura di leggere la prima cosa la prima cosa che fanno le dittature quando diventano tali è bruciare i libri che ritengono scomodi non vogliono che si sappia niente non vogliono che si legga niente che non sia gradevole soprattutto che non sia gradevole non sia gradito al potere per questo è così importante la letteratura è così importante leggere libri perché nella letteratura è dove troveremo ciò che nessun altro ci racconta non ce lo racconta la televisione non ce lo racconta nei giornali non ce lo racconta nessuno ma tra le pagine di un libro potremmo trovare il frutto di una mente contorta e a proposito appunto di meccanismi umani che vengono raccontati nei suoi romanzi nei suoi romanzi c'è un'attenzione non solo in questo insomma ma in tanti altri suoi romanzi per la manipolazione per il segreto da dove viene questa fascinazione per per la la manipolazione che appunto sotto aspetti diversi dal mondo letterario appunto prima prima lo citava il profumo delle foglie di limone invece lì era in ambito più storico parliamo addirittura appunto di nazisti eccetera ma però è un tema che è spesso molto presente nei suoi romanzi sì perché io parlo di le persone di esseri humani normali e corrienti io parlo di miei vecini parlo di anche se nazi parlo di mia parlo di parlo del amor e in tutte queste persone e di tutto in lo che parlo hai manipulazione hai manipulazione osea somos seres manipuladores manipulazione para bien o para mal por ejemplo io ora sto tratando di manipularvi come posso come posso per che leate mia novela di alguna maniera osea il amor il amor che è sino quando quando queremos enamorare a alguien è lo chiamiamo seducione però è manipulazione osea diciamo che saciamo le nostre meille armas e las utilizziamo per seducir a la altra persona questo in un buon sentido però tambien usiamo la manipulazione per casos che non sono tan maravilloso per esempio ora lo stiamo vedendo con la guerra dell'Ucraina mi pare che io creo o sentir por las notizias che los rusos están bastante manipulados si effettivamente io quello che faccio è parlare delle persone persone che potrei definire normali ordinarie parlo dei miei vicini anche quando i miei vicini sono stati dei nazisti parlo della mia famiglia ma soprattutto parlo dell'amore io credo che sia in tutte le persone e in un sentimento centrale come l'amore esiste sempre la manipolazione siamo esseri manipolanti manipolatori di ogni cosa usiamo la manipolazione a fin di bene e a fin di male per così dire adesso per esempio sto cercando di manipolarvi perché vorrei tanto che voi leggeste il mio romanzo pensiamo all'amore quando vogliamo che qualcuno si innamori di noi lo chiamiamo seduzione se ci pensiamo però in realtà è anche quella una forma di manipolazione per sedurre qualcuno per farlo innamorare di noi affiliamo le nostre migliori armi questo quando usiamo la manipolazione in positivo ovviamente c'è anche una manipolazione abbastanza terribile che vediamo dispiegata ogni giorno nel mondo pensiamo alla guerra in Ucraina per quello che ne so io da quello che raccontano i giornali il popolo russo è profondamente manipolato per esempio in i peccati di Marisa Salas perché non abbiamo parlato di Luis Isla si l'abbiamo solo nominato ma non abbiamo parlato è un ragazzo manipolato per la sua madre perché la sua madre vuole che il suo figlio sia un uomo molto molto importante per questa cosa fai algo che credo che non dobbiamo scontare che vedete nel romanzo perché il romanzo ha una doppia narrazione e si vede da subito c'è quella di Marisa e c'è quella appunto di Luis sì perché Marisa che ha scritto questo romanzo 30 anni fa che non ha avuto nessuno successo un giorno entra in una libreria dove c'è una montagna di romanzi lo hemos contato già questo no non così nel dettaglio però sì che lei rincontra vede una montagna di romanzi che stanno che sta tenendo che hanno un successo travolgente per questo autore nuovo giovane molto attrattivo che è Luis Isla e quando lei prende questo romanzo e leie una pagina che sono identiche a il suo romanzo che lei ha scritto 30 anni prima questo ragazzo fa questa cosa manipulato per la sua mamma perché la sua mamma ha encontrato il romanzo di Marisa Salas e se lo porta le dice tu serai scrittore e lui le dice ma io non scrivo e la madre le dice non hai bisogno che tu scrivas niente perché già sta scritto è già stato scritto il romanzo e da qui si inizia questo thriller dove corre sangue non rosa ma sangue azzurra della tinta dell'inchiostro dell'inchiostro questo libro che viene ritrovato e anche qui ci fa capire i trent'anni che passano da quando lo ha scritto la protagonista a quando poi lo ritrova appunto lui lui si isla che se ne appropria lui lo ritrova in una serie di floppy disk che ci riportano immediatamente con un balzo in un'altra epoca che non è così lontana però insomma appare appare io chiuderei con una con una domanda non so visto anche il rapporto che lei ha con l'Italia o con i lettori italiani se ha mai pensato di ambientare in Italia un suo romanzo con Italia mi succede una cosa che mi succede con mio marito a volte a volte ho pensato vado scrivere un romanzo sul mio marito ma è tan vicino a mi e quasi lo amo che perché lo marito se le amano se le amano dal tutto tanto che non posso scrivere e questa cosa mi succede con Italia penso pieno insieme che vanno insieme e devo creare un italiano un uomo italiano no? Avrà ambientazione e personaggi italiani forse entrambe le cose quindi sia ambientazione di personaggi chissà sì non lo so devo pensarlo sono molto confusa con questo ma lo scriverò scriverò io chiuderei qui se Clara Sanchez non ha altro ancora qualcosa da aggiungere e se no forse possiamo chiudere qui il nostro incontro la nostra chiacchierata e ovviamente per chi vuole poi c'è l'immagine il firmacopio sì come che lo che non si chiede di segnare di algo no grazie grazie mille a tutti spero che questo romanzo vi piaccia è molto meglio che quello che ho raccontato però che sì perché stiamo un po informali no? qui ma spero che se lo leggete siete felice con questo romanzo che io ho scritto da dentro con tutta la mia esperienza con tutto il mio amore ma con tutto il mio veleno della mia vita di scrittrice grazie un bacio grazie grazie grazie